Start, 2, 1, installa e riporto! Lui si è ritirato in pensione e lo stiamo sistemando pian piano. Il gioco, benché non in novi, aggiunge delle meccaniche che vanno ad affiancarsi a quelle meccaniche simili a quelle già viste su House Flipper. Nel senso che io ho deciso di cominciare leggermente più avanti dell'inizio del gioco, leggermente, in modo da evitare di farvi vedere quello che mostrerebbero tutti quelli che inizierebbero a registrare il gioco dall'inizio, cioè tutti insomma. Io ho già iniziato a, non ho diciamo solo il piano terra, ho iniziato a seguire il tutorial rifacendo completamente le piastrelle, pitturando l'interno, rimettendo a nuovo tutte le finestre, non ho ancora pitturato il soffitto, ma è una cosa che faremo. Ho iniziato a mettere questi sensori di fumo e ho messo questi due tavolini. I bagni, così come la scala che porta al piano superiore, sono tutte cose che si vanno a sbloccare in seguito. Vi faccio vedere un'altra cosa, poi continueremo a seguire il tutorial, che con il tasto Tab si può andare su Avazone, che è il negozio online dove si acquistano le cose. Addirittura avete i giochi, avete gli speciali che si sbloccano con l'avventura, ci sono gli elementi per la cucina, la cappa, le lampade, il bagno e così, la carta da parati, i pavimenti. Vedete, noi adesso possiamo andare a comprare un pavimento magari in pietra e farlo di un certo tipo. Insomma qua l'ho fatto un po' modello bagni dell'Overlock Hotel, ma va bene. L'altra cosa molto interessante che vi voglio far vedere è questa. Praticamente io posso andare a, vedete, ho le prese elettriche. Nel senso che io posso tecnicamente comprare una presa, in questo caso vedete l'ho comprata, l'ho messa qui. Nel momento in cui cliccate su un edificio, su un oggetto, scusate, avete modo, vedete, di collegarla. Adesso lo sto spostando, però nel momento in cui cliccate su un oggettino, avete il simbolino dell'elettricità e poi cliccate sulla presa elettrica. Non sta benissimo, vi sta così, sta men che meno bene qui, però dovete alimentare il tutto. Inoltre dovete andare sempre con il vostro tablet a decidere il menu. Io adesso ho fatto un menu tipicamente italiano. Inoltre potete andare a comprare le cose e le cose segnate con il simbolino del libro sono ingredienti richiesti dal vostro menu. Ci vengono segnate anche le cose che abbiamo poco in magazzino. Una volta arrivate vengono scaricate tutte qua davanti e potete andare a buttarle qui. Basta cliccare su uno e poi le posiziono da solo, se no sarebbe stato veramente eccessivo. Altra cosa, i rifiuti continueranno comunque ad accumularsi anche quando avete aperto il locale e andrete a raccoglierli. Comparando vari tool, questo serve per raccogliere topi ed è una cosa un po' eccessiva secondo me. Comunque potete pulire i pavimenti oppure spazzare le foglie. E quando lo fate, dopo un po' vi si riempie il container dei rifiuti che è qui dietro. E quindi dovete chiamare, spendendo in questo caso 44 o 50, il camion arriva e nel giro di qualche istante svuota il container. Qua dietro invece all'inizio gioco inizierete appunto accendendo il quadro elettrico della vostra attività. La vostra attività anche qui poi cambierà. Sicuramente aspetto ed è una delle cose più belle secondo me. E appunto ho dovuto, vi faccio vedere, anche rifare, sistemare il tetto perché era messo male. Poi un'altra cosa, non so se sia voluta, come potete vedere il secondo piano, ma in realtà devi vedere l'ottima... Gli ho sistemato uno per un bug perché sono riuscito a vederlo. Ma in questo caso dovete prima sbloccare il piano. Come fate a sbloccare il piano? Lo fate con il tablet sempre. Abbiamo la gestione dove possiamo assumere i dipendenti, adesso andremo a vedere. Abbiamo gli strumenti che possiamo acquistare, ci sono le mail che potete leggere, la carta da parati, il mio ristorante. E poi potete decidere di far accendere le luci automaticamente, settarle da voi, settare il pavimento, insomma i colori delle piastrelle esterne e espandere il vostro, il piano insomma. Altra cosa interessante, entreremo in possesso anche di una macchina fotografica perché in sintesi prima mi è arrivato un messaggio che c'è il Bigfoot, quindi fargli una foto ci porterebbe ad avere tantissimi soldi, anche perché è scomparsa una persona, non la trovano e si sospetta del Bigfoot. Ora dobbiamo andare a gestione, assumi un dipendente. Quindi gestione, assumiamo un dipendente. Ok, paghiamo 30 per avere l'elenco e possiamo decidere quale, direi che possiamo prendere questo che paghiamo 70, assumiamo Harry. Motivazione, salario giornaliero, ok abbiamo assunto, installa due lampade. Allora, assumo un dipendente al tavolo, in questo caso posso assegnarlo da qui, no, vabbè lo vediamo dopo. Adesso installiamo due lampade che non so dove siano, quindi soffitto, oddio sono bruttissime queste cose. Ah no ma questo è il materiale, luci, lampade, queste, ne mettiamo una qui, non è per nulla schematica la cosa. Assumi quella giusta, ok abbiamo assunto una persona, ora possiamo andare nella gestione, vediamo come si fa. Assumere, ok lo voglio, vorrei posizionarla qui, non posso assegnarla qui perché, qua posso assegnarla, assegnare ok, assegno Harry e vedete che lui poi lo paghiamo. Tra l'altro se andate nel tablet avete modo di vedere anche le fatture, elettricità, gas, acqua e le farodi, non so perché. Mettere due biovc all'esterno, quindi noi non abbiamo ancora i bagni, metteremo i biovc all'esterno, cosa rudimentalissima ma va bene. Bagno, i biovc due, ben due, due cessi chimici, uno e due, va bene. Aprire un ristorante, apri il tablet, angolo in basso a destra, clicca sul segno rosso e apriamo. Hai aperto un ristorante per spostare l'attrezzatura, assumere un'ora di vicchio dell'esterno, perfetto. Allora abbiamo aperto il nostro ristorante, servi cinque clienti, devo mettermi io a servirli, molto bene, lui però preparerà per me le cose. La via non è ancora bellissima, dovrò andare un pochino a sistemarla, non è proprio tutto così bello da vedere, però va bene. E intanto osservo io il tavolo. Oh, è andato via, no, non vado via, non vado via. Ok, è andato via. Aspettiamo, vedete che abbiamo, lui mi dà l'ordine e lui li prepara, che è una meccanica un po' diversa rispetto al solito. Qui abbiamo il frigorifero, non posso toccare nulla se non chiudendo il ristorante, quindi interessante. E non c'è nessuno, aspettiamo che arrivi qualcuno, ecco che arriva qualcuno dalla strada dietro. Buondì, aspetto, qua non abbiamo assolutamente niente di pronto. Buongiorno signora, perché vestita da chef? Allora, nuovo ordine, paese della pizza, quindi pizza e abbiamo un paese della pizza. Perfetto, lei si va ad accomodare, non prendiamo l'ordinazione al tavolo, è più un modello fast food questo, ma va bene. Bene, la tizia si è seduta, lui sta iniziando a prendere le cose, ma è un po' arrugginita la bilancia però, va bene. Mi dovrebbe dire quando l'ordine è pronto, in questo caso ordini pronti zero. Puoi prendere, devo acquistare più tavoli da cucina, assumere i dipendenti, ok. Sta cucinando la pizza in padella, vabbè questo è simbolico dai, glielo facciamo passare. Ok, ha preparato la pizza, spero abbia almeno l'aspetto di una pizza. Ordini pronti, uno. Prendo e porto una fetta di pizza. Buongiorno, mentre nel canale presento un cestino verde per i rifiuti, a volte visitatori possono stare a vedere i rifiuti. Ok, buongiorno, prego. È un fast food, sì, in effetti è un fast food. Allora, signore, mi dica, vuoi una lasagna? Sì, quindi, non so sotto cosa lo metto, è pasta, no? Altra, lasagna. Perfetto, vada ad accomodarsi. Lascia l'impronta sul pavimento, compriamo un mocio, ok, non ho lasciato impronte. Quindi io prendo F, prendo il mocio e pulisco. Impronta. Poi, come ci diceva, qua buttano le cose e se non lo puliamo in fretta, puzza. E quindi fa una pessima impressione al cliente. Intanto lui sta preparando, forse, la lasagna, se non l'ha già preparata. La valutazione del tuo ristorante è l'indicatore più importante. Vieni visualizzato nella parte superiore dello schermo come stelle. Le più stelle abbiamo, più clienti visiteranno. Ok, sì, perché un caffè non è un... Ok. Allora, tu vuoi un paese della pizza, quindi io ti... Ah, non posso, mannaggia. Ok, ordini pronti. Mi scusi, è che porto la lasagna. Molto bella, realizzata bene. Buongiorno. Abbiamo preso... Siamo saliti di livello. Questo è indipendente dalle valutazioni. Guarderemo che è quello. Le vuole una pizza. Il paese della pizza... Questo. Perfetto. Si vado ad accomodare, grazie. L'altra signora dovrebbe averci dato i soldi. 18. 18, ma in realtà la pizza costava 7, quindi ci ha lasciato probabilmente la mancia. Comunque, in alto vedete che abbiamo il numero di topi, che non è realistico, nel senso a meno che non abitiamo in un luogo, per in effetti qua siamo intorno alla campagna, quindi chi lo sa. Però, gli scarafaggi, le valutazioni invece non le vedo, ma va bene. Allora, lui ha pagato. Buongiorno, non posso dargli ancora una lasagna perché sto aspettando che il mio cuoco mi vada a prendere la lasagna. Ok, grazie mille. Pronto a prenderne un'altra. Ok. Quindi prendiamo altro, lasagna. Fammela. Potrei farmene fare già pronte alcune, ma non so quante posso portarne. Comunque, gli ho portato una pizza. Ok. Non ci sono posti, infatti l'operaio va via. Non c'è posto, ovviamente. Qua puliamo dopo. Intanto vediamo un attimo. Recensioni 8, ma non le abbiamo ancora sbloccate. Abbiamo le abilità al marketing, la banca d'oro, i loghi. Possiamo andare a cambiare il logo, spendendo una barca di soldi. Sembra anche piuttosto profondo come gioco. Cioè non è banalissimo. Ne ho provati tipo Bakerissimo Leto, che era banalissimo. Ma questo non sembra assolutamente, non sembra affatto male. Soprattutto per il fatto che verrà espanso, poi si espanderà, più che altro il gioco andando a sbloccare varie cose. Ma mi è proprio piaciuta tanto il modo in cui il gioco si è presentato all'inizio con tutto devastato. Infatti se andate a vedere un qualsiasi video gameplay o un qualsiasi video sulla pagina Steam vedete che qua è tutto deroccato, ma in realtà fa ancora schifo. Non ci sono posti e noi in effetti no. Si è appena alzato adesso, ma mi spiace. Espanderemo per poter prendere, sì poi questo inteso un po' l'americana perché lasciano i soldi lì. Ma la lasagna quanto cacchio costa? Perché mi danno un dollaro. La lasagna costa 5 dollari, l'altro mi ha pagato uno. Mi chiedo anche cosa sia quella frode, perché ogni tanto arrivano anche dei barboni che potete disabilitare se vi dà fastidio. E loro possono dargli soldi per mandarli via o scacciarli e potrebbero creare disordini all'interno della cosa. Pozzanghera, quando piove i compagni non pozzanghera, possono influenzare l'impressione del visitatore. Cacchio c'entra a me se... Vabbè. Allora, pizza, pasta carbonara. Pasta carbonara lo aggiungo. Intanto vado a prendere i soldi. Ma pagato 2 dollari. Costa 5, la lasagna la fai proprio male. Comunque, va bene. Puliamo con il mocio. Questa. E la pozzanghera. Questa. Non ho ben capito perché devo pulire la pozzanghera. C'è mica colpa mia. Questa signora qui cosa vuole? Vuole la pasta carbonara. Quindi facciamo... Eh, non posso. Mannaggia, deve finirmi la prima. Allora, un secondo solo, eh, signora che... Siamo subito da lei. Adesso a me arriva questa carbonara. Perfetto. Le faccio subito una carbonara. Si sieda pure. Intanto io vado a prendere, a portare questa al signore là. Alla signora là in fondo. Buongiorno. Tenga a lei. Non la vuoi? Ma chi è che voleva la carbonara per prima? Eh, ma scusa, non l'avevo mica presa? No, non l'avevo presa, mannaggia me. Ok. Prego. Congratulazione, avete completato successo la vostra formazione. Siete pronti per iniziare a lavorare e sviluppare il vostro ristorante. Abbiamo già trasferito 200 dollari. Cosa ci farò? Con tutti quei soldi, come ricompensa. Perfetto. Servi 20 clienti. Ok, perfetto. Dobbiamo fare questo. Ordini attivi sono questi. Possiamo... È arrivato un altro piatto. Perché ho sentito il ding. Pasta carbonara. Rapporto alla signora. Buongiorno. Vediamo un po' che aspetto alla carbonara. Non male. Buongiorno. È occupato. Mi spiace. Eh, mi spiace. Lo so, signora. Ah, mannaggia, devo chiudere il ristorante. Eh, vabbè. È mezzanotte, quindi potremmo anche pensare di chiuderlo. Se non mantenete un buon rapporto senza tetto locali, questi potrebbero danneggiare le attività rompendo finestre, aggettando rifiuti. A volte posso chiedere il denaro raccontandovi un'altra storia. È una vostra scelta. Ok. Mi chiedo dove sia il boom. Eccolo qua. Questo l'avevo già mandato io una volta. Eh, aspettiamo. Mannaggia me. Eh, rimozione dei rifiuti. Pago 45. Arriva un aereo. Sta arrivando il camion dei rifiuti. Salve. Eh, cosa le porto? Vuoi il paese della pizza. Quindi pizza. Mi piace molto questa cosa. Ha rotto il vetro. Non so quale vetro. Questo. Quindi se clicca qui vedete che mettiamo a posto il vetro. Spendendo dei soldi. Gattino. Salve. È tutto sporco lì davanti, lo so. Lei vuole una pizza margherita, quindi... Prendere una pizza prima, però aspetti un attimo. Volevo andare... Eh, devo chiudere, non l'ho già detto. Ma non me lo svuoti il cestino? Ok. Dai! Ok, dai. Pizza margherita. Dai, pizza. Non ce la fai, fa due cose insieme. Pizza. Margherita, vuoi? Sì. Vai, vai, siediti. Intanto prendo il piatto già pronto. Dovrei fare un secondo tavolo di cucina. Ah, no, dimentico sempre di prendere i soldi. Va bene. Abbiamo servito due clienti. Sarà abbastanza lunga da dare avanti, insomma, però... Eh, lasciano in giro la roba. Io non gli pulisco manco i tavoli. Quindi... Questa poi chiaramente è un fast food, insomma, con il numerino che attendono l'ordinazione. Mi ricorda un fast food particolare. Eh... Voglio vedere se riesco a estendere il mio negozio, il mio ristorante, comprando roba. No. Accendo le luci. Ok. Molto bello. Secondo me, ritoccando un po' il pavimento, il soffitto, secondo me viene... viene molto, molto bello. Allora, buongiorno signora, buonasera. Si mangia la soffetta di pizza. Buongiorno. Uno. Ok. No, non voglio questo, ma voglio il mocio. Non pulisce. Ok. E poi puliamo anche la pozza qui. Anche se... Non ho controllo diretto, ma il micio. Piacere. Lei cosa vuole? Vuole una lasagna. Lasagna? Ok. Ma le pagano un po' quello che vogliono. Lasciano gli soldi. Non vanno a... Vabbè. Comunque, io adesso servo questo cliente e poi chiudo perché voglio aggiungere altri tavoli. Ci sono anche le mascherine, i guanti. È spettacolo. Ma non le mette, ovviamente. Né uno né l'altro. No, signore, guardi, siamo in chiusura. Mi spiace, signore. Adesso servo quella lasagna lì, poi chiudo. Ok. Mangi, mangi. Intanto prendo il tablet. Avete bolletto e non pagate. Pagate in tempo. Prima che arrivino le successive sarete multati. Ok, ho speso... 37. Molto bene. Bene. Chiudiamo. Sorry, we are closed. Lei finisca di mangiare, poi rivederci. Ma chi è che ti ha messo il limone con la lasagna? Vabbè. Vabbè. Intanto puliamo. Assumere un cassiere. Ok. Gestione. Voglio prendere anche un cassiere. Perché ovviamente io voglio non più lavorare. Se no, non apriamo un ristorante. Allora, vediamo un po'. Telecamera. Non ce l'ho ancora. Sarà molto importante quello da avere. Gestione. Assumi un dipendente. Pago Ed Hunter, che sarebbe il cacciatore di testi. Pago un premio. Gli do un premio così è motivato. Allora. Ehm. Boo. Questo mi piace molto. Jack. E vorrei metterlo qui. Non lo posso assegnare qua. Perché? Aprire il menu cassiere. Selezionare un dipendente. Gestione. Cassiere. Precenzione. Ok. No. No. Continuo a pagare il cacciatore di testi ma io voglio un cassiere. Menu cassiere. Dice. Boo. Gestione. Quindi aprire il menu cassiere. Selezionare un dipendente. No. Non me lo fa fare. Beh. In caso ci... Tore personale. Precenzione. Lavoratore. Licenzio. Questo tizio. Pago un premio. L'ho già pagato. E fa già il suo lavoro. Voglio assumere qualcun altro. Però non mi dice che lavoro fa. Scusate. Ma cassiere. Vediamo. No. Vabbè. Ne sumo uno. Però non posso dargli il compito di lavorare qua. Non ho capito il motivo ma... Intanto l'altra è andata. Ho chiuso il locale. Quindi siamo chiusi. Prendo. Butto via. Prendo i soldi. Va bene. Puliamo anche qua. Ma... Non mi prendo il cassiere. Vabbè. Assegnare. Vedete che non me lo assegna. Vabbè. Comunque. Ragazzi. Questa era la base di Cafferone a Simuletra. Salvo ovviamente. Perché si sa mai poi che non lo si continui. Resto in attesa del vostro parere. Sperando abbiate... Cosa fa quello? Vabbè. Sperando abbiate gradito questo titolo. Non è male. Assolutamente non è male. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima. E ciao ciao. Sperando abbiate a Simuletra.